Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Enzo De Luca presiede da meno di un anno l'osservatorio regionale sui rifiuti e la sua semina comincia a dare i primi frutti. Giovedì ha annunciato che dall'autunno sarà operativo il sistema unico di monitoraggio con il software Orso, una innovazione che consentirà di tenere sotto mano in tempo reale tutti i dati del ciclo rifiuti sull'intero territorio della regione. Insomma, senza indulgere alla retorica campanilistica, bisogna ammetterlo. In materia di monnezza, l'Irpino De Luca è il miglior politico che abbiamo in Campania. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori